L'universo nei primi istanti di vita era composto solo da due elementi, idrogeno ed elio, gli atomi che compongono le stelle. Sono loro che hanno generato tutti gli altri elementi. Noi siamo fatti della stessa materia di cui sono fatte le stelle. La passione per il cielo, lo stupore per le stelle, già affascinanti di loro ma ancora una volta di più si sono spiegate e raccontate dal maestro Aldo Luttini. La magia del cielo stellato si è ricreata ancora una volta a Castiglion Fibocchi, telescopi verso il cielo, una passione, quella verso le stelle, spiegata da Luttini a giovani e meno giovani desiderosi di entrare nel meraviglioso mondo di stelle e pianeti.